Eeeh, ciao a tutti ragazzi, bentornati sull'ottimissima, sono cascato in acqua, Overwatch 2, insieme a Jimbo. Buongiorno, buongiorno, che bortello che fai. Cosa vogliamo fare oggi? Oggi voglio fare, voglio fare, due cose molto molto belle. Allora, mi sono trovato nella seguente situazione, e ho chiamato Jimbo apposta. Per fare le pipe, i pipe, cioè la roba che interessa a me, mi servono un sacchio di junction pipe, vado a spiegare un po' la situazione altrimenti qua. E per farlo mi serve il red iluma, il luma, il lumar. Come cacchio si vede sta rosso? E il green il lumier. Allora, il red non è un problema, serve colorante rosso e glowstone. Ma per fare il verde, serve il cactus green. Esatto. Che porca merda! Eeeh, io non lo faccio mai perché ho sti quattro cactus del ciuffolo, è buona. Oggi ho due progetti in mente insieme al buon Jimbo, così gli faccio vedere un paio di questioni della Warcraft un po' più ignoranti. Lo signor Jimbo mi segua perché le faccio vedere la questione che ho in mente, mi sono dimenticato una cosa. Vedo che miglioriamo man mano... Facciamo bene. Esatto, esatto, esatto. E' che lei, povero signor Jimbo, le... Oh, cosa? Mi scusi il semi-orgasmo, ma... Ho visto che mi servivano delle cose che non mi aspettavo. Ma la ho le scavette? C'è quello delle scavette, non funziona anche con gli alberi? Oh, se hai le scavette sull'ascia, sì. Ma io non ce l'ho le scavette sull'ascia. Ma perché ho del legname a caso? Jimbo, mi perdoni. Mi dica. Eh, io l'ho dato io. Ah beh, me la smette di lanciarmi il legno in faccia, per piacere. Come vedi anche la mia momentanea fornace automatica è abbastanza barbona, però... Fa il suo sporco lavoro. E' comunque una zona meno barbona della mia, credimi. Vabbè, lei è entrato l'altro giorno, io sono qui da quattro mesi, questo è quello che ho fatto. Insomma, non è un granché. Non è un granché magari di interni qua, ma pari le mura, eccetera. Tra l'altro, mi spieghi, come mai questo design è tutto unico? Ah beh, un attimo. Adesso che ho gli item barrel, voglio craftarmi due pair di infinite capacity. Cioè, che è un barrel upgrade che mi permette di far diventare il mio barrel infinito. Che due palle! Però le sugarcane ne ho poche. Ah, vabbè, delle sugarcane. Ma perché è sempre le cose più fastidiosi? Anche di quelle dovremmo fare una farm automatica. Signore, qua la cesta è vuota, non dà da mangiare il suo... No! Devono morire! Ogni volta fanno i figli di colore sbagliato e a me mi tocca ucciderli. Ci siamo, quindi? Ci siamo, venghi qua che le faccio vedere come voglio far sviluppare la questione. Ci dovrà essere... Altro? Allora... Mi faccia dire, lei ha una voglia di vivere grande quanto non so per averla fatto tutto in Netherbrick, questa cosa. Eh, abbastanza. E poi si figuri che all'inizio il Netherbrick non era così facile da craftare. Cioè, una mod, la Better With Mods, prevedeva che il Netherbrick non si ricavasse dalla cottura della Netherrack. Quindi com'è che bisognava fare? Praticamente la Netherrack bisognava... Buono! Però poi il signor... Ovviamente il signor... Coso... Ha modificato... Ha modificato la questione in maniera più ottimale assai. C'è una cosa in questo modpack che si chiama il Block Breaker. Non so se lei sape di che cosa si trasta, ma... Questa, sì. Sì, rompe automaticamente i blocchi. Rompe automaticamente i blocchi e bisogna piazzarlo, ovviamente, con la faccia in giù. Così. Perfetto. Ora, torniamo... Mi torno un attimo in questione altezza. Allora. Lei come torna su? Ecco. Perfetto. Questo lo devo cavare tanto. Allora, come voglio fare la questione? Signore e signori, una semplicissima farm di questioni. Qui ci metto l'acqua che, giustamente, casca qua. Dall'altra parte, se ci metto la lava, in quel punto specifico, dove ho messo il secchiello di lava, qui, perfetto, da quest'altra parte ci mettiamo la nostra amica lava, esatto, e dovrebbe fare la coble che ci serve. Ora, l'unico problema... Eh, attento lei che... Eh, mo' come esce, porca miseria. Bravissimo, bravissimo. Poi me li ripiazzi, per piacere. Ora, voi mi direte, eh vabbè, ma questo coso qua non sta lavorando. Come si fa mai? Si fa in questo modo qua. Oh, porca miseria, adesso... Che imbarazzo? Adesso rimetto... Mi di un attimo, per piacere. Ok, perfetto, abbiamo rimesso a posto le questioni. Quali di? Allora, poi tra l'altro possiamo richiudere anche così, perché... Quindi rimarrà solo questo blocchetto qua, e voi vi direte, eh, va, serve il segnale diretto, sono fatto. E tutto va qui dentro, credo. Pratam, così. Easy. Fatto. Ma questo item barrel, eh, l'hai già, è già upgradeato e è base. No, devo upgradearlo. Ah, è vero, poi l'item barrel, però, ho il dubbio di come, come cavolo si fa a recuperare la roba dal barrel. Ti sento. Allora, intanto adesso... Eh, ops. Lo ripiazzi, per piacere, ok. Eh, perché se... Ho visto che prima, premendo tipo il tasto destro, è uscita fuori la cobblestone. No, aspetti, però. Ma, scusa, con la IAB, con la IAB non c'era quello base del... Aspetti, però c'ho estratto... Aspetti, però c'ho estratto... In che senso quello base? Mi sa che ho sbagliato barrel, devo fare questo che è invisibile. Sono un item barrel. Ok, aspetti, aspetti, si cavi un attimo. Mi tolga. Vuole che la tolgo veramente? No. Ok, mi scusi. Ok, ora c'è l'item barrel. Eccolo! Perfetto. Ah, sì, perché quello ho baggato di texture, è vero. Fatto! Ma lei ha la texture quella apposta per vederlo bene? No. Però ora è... Ora gli ho messo... L'Infinite Capacity Incredibles. Ah, posto allora. Adesso dovremmo fare un'altra operazione interessante. Non mi ricordo mai dove metto la roba. Ho dei problemi, Jimbo. Jimbo, aiutami. Perché mi ha messo la questione davanti? Mi scusi. Mi dà un po' di terracotta e l'ho finita. Perfetto. Qual è la questione? Che io voglio far arrivare l'acqua qua. Ora, il mio dubbio fondamentale è... Allora. Non mi dire padrone, per favore. Adesso qui faremo il muretto di questione. Tanto va bene anche se è brutta la farma. Non mi serve che sia bella. Perfetto. Ok, deve arrivare l'acqua qua. Con i cactus sopra che ci caccano fuori il loro ben di Dio. Ora, bisogna fare le prove con l'acqua giustamente. L'acqua copre otto blocchi. Allora, così se noi droppiamo un item a caso, si infila di sotto e va nel nostro... Nel nostro barrellino, giusto? Eh, non si vede, signor. Come non si vede, signor? Non vedo nessun item dentro. Provi a buttare qualcosa. Cioè, se io nel barrell faccio così... Ah, no. Aspetti. Vado a buttare qualcosa io. Sì, dovrebbe arrivare. Adesso con calma arriva. Ci vuole il suo tempo, ragazzi. Sono hopper comunque, questi. Sì, dovrebbe essere arrivato, ma non glielo butta dentro. Eccolo qua. E' quello su... E' nell'hopper sopra. Sì, l'ho visto, l'ho visto. E' qui il blocco. Però non glielo butta dentro. Non so perché. Quindi io rompo e vado a farmi... Un hopper normale. Esatto. Io direi di lasciare da qui un blocco. Quindi qui. Adesso si smincherà un po' tutto, giustamente. Ma comunque, le posizioni sono queste. Se c'è un blocco sopra il cactus, giusto? Eh, per dire, se ci sono dei cactus intorno e c'è un blocco centrale... Ah, bisogna metterlo centrale, allora. C'è la sua differenza, è quella. Perché, vede... Quello che dicevo è, faccia finta che questo blocco su cui sono è un cactus. Se io il blocco glielo mettessi... Ma tu mettilo qua. No, qui non conta niente. È diagonale a tutti. Eh, ma dovrebbe spaccarsi... No, in diagonale no. No? Dritto sì. E' qui che deve stare, vede? Allora, fa così. Ecco, porca merda, sono sceso. Allora, vede? Sto qua e adesso tiriamo le righe da questi qui. Come prima, uguale. Perfetto. Allora, rompo qua e poi metto i primi cactus che ho. Poi, ovviamente, dovranno essere rimpolpati da altri che inizieremo a farmare. Per il momento ne ho 21 e la nostra farm è conclusa. Signor Jimbo, grazie della sua presenza. Da qui vi... Devo farlo out. Esatto, non sono capace di farle out, non so se sia notato. Comunque, ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Lasciate un like, passate dal canale di Jimbo che fa delle robe belle, belle, belle. Detto questo, spero che l'episodio... Come no, però sì. Sì, si vergogni, lei dica che fa le cose belle. Poi se è una menzogna se ne accorgerà l'utente. Eh, beh... Ma c'ho le cose belle. Il suo canale è in descrizione. Detto questo, un like, mi raccomando, il like, iscrivetevi, condividete. Ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti